Circa 290.000 ragazzi che da questa mattina in tutta la regione campagna sono tornati a fare lezioni in presenza. Si aggiungono i circa 480.000 che erano rientrati in classe lo scorso 7 aprile, quando il rientro era stato possibile fino alla prima media. Da oggi in presenza fino alla terza media e al 50% per le scuole superiori. Restano però indatti in tutta la campagna circa 150.000 ragazzi. I governatori non possono decidere autonomamente se chiudere le scuole come fatto prima del decreto del 1 aprile. Possono farlo solo i sindaci nei propri comuni per giustificare i motivi di sicurezza in relazione all'andamento del contagio. Restano i dubbi sulla ripresa completa del comparto scolastico. Le misure di sicurezza del comitato tecnico-scientifico sono superate dal 26 aprile con un'apertura generale. Anche su questo ci sono perplessità da parte di genitori e corpo insegnante. Ed ancora altra criticità sono i problemi di spazi adeguati nei vari istituti. Punto chiave sono soprattutto i trasporti che dovranno garantire le misure di sicurezza. Su questo aspetto incideranno anche i controlli. I dirigenti attendono precise indicazioni in base alle quali poter riconsiderare il funzionamento delle classi al 100%. Obbligatoria la mascherina per tutti, questo unico punto fermo contro il contagio. Intanto restano in dad vari istituti del Serenitano come Accapaccio Pessimo, Rocca d'Aspire, Santa Maria di Castellabate, Fisciano, Mercato San Severino, Ponte Cagnano, Campagna, Sassano e di Capoluogo Salerno.